Ciao gente, è mattina, proprio mattina perché sono tipo 6 e mezza Come tutti i giorni mi sono svegliato per andare a scuola Adesso vado a scuola e poi dopo da scuola andiamo dove dobbiamo andare Quindi a casa non ci torno Quindi niente, preparo così da portare indietro E ci vediamo quando esco Salve Operazione C Ciao canetone Dove fuggi? Postazione da viaggio con il cavetto di USB, Powerbank, cuffie, cose E' nel mezzo a fuori Vuoi una coccinella? Affrontare al meglio la pausa autogrill con questo Ciao gente Siamo finalmente giunti al lago di Garda Come probabilmente avrete intuito E non so dopo quante ore di viaggio perché ho dormito per tutto il viaggio Credo si intuisca dai miei capelli E niente, adesso andiamo tipo a fare un giro a Sirmione Siamo in un'area di sosta senza corrente né niente Però domani ce ne andiamo e andiamo a fare un altro giro a cose E quindi adesso ce ne andiamo a fare un giro e ci vediamo tra poco Quello è perché si porta un giro a scuola e non se ne controlla o di voglia Vi ho detto che andiamo a prendere lo stasera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E abbiamo anche trovato la gelateria per i cani. Sì, cioè proprio solo gelato per i cani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.